Ok, questo è il titolo della lezione di oggi e registrerò la lezione quindi guardando in camera, però poi allarghiamo anche l'argomento a altri argomenti, non perché oggi dobbiamo solo parlare di questo. Oggi parliamo di un argomento, una domanda che mi fanno spesso, il caso di pazienti per esempio che non hanno perduto tutti i denti, pazienti che hanno ancora molti denti in bocca che devono solo fare delle terapie parziali, quelle che noi richiamiamo casi misti, riabilitazioni miste, sono quei casi che presentano delle criticità in più che vedremo durante appunto questa chiacchierata e il titolo è ristrutturare costa di più che radere al suolo e fare tutto da capo? Qual è la risposta? Sì, niente. E perché costa di più ristrutturare? Perché dopo quello che hai fatto devi ristrutturare? Più difficile, ti costa di più sia quando lo fai che poi se vai a tenere conto anche poi di tutto il ciclo di vita della bocca, a fine devi anche vedere quanto hai speso negli anni pure per mantenere tutta questo, dire il vero costa di più il paziente che deve togliere tutti i denti perché più delle volte ha speso anche tanti altri soldi prima di arrivare qua. Ha fatto molti impianti, ha fatto molti ponti, ha impianti che sono falliti, si trova in stadio di chirurgia terziaria quando devi anche reintervenire su reinterventi e allora devi utilizzare degli impianti e delle tecniche che sono ancora più complesse dove hai meno margini anche di manovra se vogliamo. Poi abbiamo invece quei casi di pazienti che arrivano qua da noi che devono fare dei casi di riabilitazione che sembrerebbero semplici, ovvero che devono mettere pochi denti, però viene fuori un preventivo alto possiamo dire, preventivo alto significa che intervenire costa molto e quel preventivo è il riflesso poi di un dettaglio di lavori che devono essere eseguiti che sono molti lavori di diversa natura che devono essere eseguiti e in più abbiamo anche dei lavori che sono singolarmente con un rischio di fallimento cumulato maggiore. Cosa intendo per rischio cumulato? Che se io faccio solo due tipi di intervento all'interno della bocca, ciò che ne so il rischio di fallimento degli impianti più c'è il rischio di fallimento di rotture dei denti, quelli artificiali che metto, se invece devo fare anche ricostruzione dell'osso, è già un'altra tipologia di intervento, devo devitalizzare dei denti, sono un altro tipo di intervento, se poi ne devo devitalizzare 10 di denti, ogni intervento vale per sé, significa che se ho una devitalizzazione che c'è il rischio del 10%, ne devitalizzo 10, c'è il 10% per 10 denti, che si somma poi all'1% di ogni impianto che metto e che si somma poi al rischio di avere problemi sulle protesi del 0,3% fino all'1% per il numero poi di denti che devo mettere. Vedete che da lì viene fuori che cosa? La complessità dell'intervento. E in più lavorare su una bocca che ha perduto pochi denti, è più difficile che lavorare su una bocca che ha perduto tutti i denti, perché quando io ho piazza pulita, diciamo così, non ho più denti nella bocca, perché li devo tutti togliere, perché il paziente ha avuto la piorrea, oppure ha avuto un incidente stradale, un grosso trauma, oppure devo togliere impianti anche messi da altre keep, io ho uno spazio libero, vuoto, è come se fosse una stanza vuota, posso decidere quali mobili comprare, io faccio il progetto, in un attimo li porto dentro alla stanza e li metto, un conto invece se ho anche dei mobili vecchi che devo restaurare, in più devo farmi fare su misura quelli che entrino in quello spazio e c'ho alta probabilità che quelli vecchi magari ti siedi, può capitare anche questo, che comunque vai a ristrutturare, non ha la performance il dente ristrutturato magari di un dente vergine o un dente che è su impianto dentale. I denti devitalizzati sono per esempio come dei rami secchi, si stanno lì, però se ti ci poggi quello si rompe, infatti si incapsulano i denti devitalizzati per questo, per evitare che si spacchino poi in due, masticando. E quindi cosa succede? Che ristrutturare la bocca, quindi mettere alcuni denti significa anche intervenire in una bocca che ha un telaio che si è storto, perché un paziente non perde i denti da un giorno all'altro, uno qui, uno qui, uno qui e uno qua, li ha perduti in tempi diversi, prima qua, poi qua, iniziano magari da ragazza a cariarsi i molari, poi li devitalizza, poi gli viene l'ascesso che era devitalizzato di fretta quel dente, magari il dentista l'ha fatta la benemm, o alla mutua si era andata all'epoca e gli avevano fatti, insomma, quei materiali che all'epoca erano ritenuti validi, però poi quelli si sono ricariati dall'asceso, allora inizia a tirare un dente, però non c'erano ancora gli impianti dentali, allora quelli dietro iniziano a storcersi di denti, quelli di sopra venire giù. La bocca inizia a prendere un altro assetto, ok, inizia, tutto si trasforma nel corpo umano, non è niente stabile, anche la mia schiena non è più quella di cinque anni fa, ho le spalle storte, una è così, l'altra è così, ho il naso storto, vivo bene comunque, non sto male, mi sono compensato nel tempo, però anche la bocca che inizia questo, che va in età adulta e poi inizia il decadimento, perché iniziano a mancare i denti, inizia a compensare, quindi i denti si iniziano a storcere per cosa? Perché il corpo deve compensare, è un effetto della compensazione, il fatto che i denti si muovano, vanno a cercare i denti vicini. Hai mai sentito i denti al giudizio spingono gli altri denti e quindi ai figli li dovete togliere, perché sennò gli diventano i denti storti? Non è vero, una bugia. Ok, la verità è che abbiamo che la mandibola qua ha dei punti di crescita dove l'osso continua a crescere tutta la vita, come le cartilagini del naso, degli orecchie, avete presente Berlusconi, ce li ha grandi o piccole gli orecchie, cioè enormi ce li ha, perché gli anziani li disegnano in caricatura col nasone, perché sono quelle cartilagini che continuano sempre a crescere. Lo stesso è la mandibola, ha dei punti qua dove le ossa continuano a spingere tutti i denti in avanti, non sappiamo se perché ci siamo evoluti dalle scimmie oppure perché semplicemente abbiamo questa biologia che i denti si consumano e compensano, quindi la natura va fatta in modo che se perdiamo denti questi spingono avanti là dove dobbiamo masticare, solo che prima masticavamo cibi duri, oggi mangiamo cibi molli e quindi i denti si storgono, non li perdiamo davanti ai ragazzi, però prima l'età, la media erano 35 anni, erano anche altri tempi, morivi comunque coi denti quasi dritti, l'era dei romani. Questo per dirvi che la compensazione è naturale, però noi con i pazienti che hanno i casi misti ci troviamo a lavorare in delle bocche che sono scompensate, o meglio non scompensate, storte. Quindi se sono storte ci ritroviamo o che gli spazi non ci sono per mettere l'impianto, oppure che ci sono già dei lavori che sono stati fatti su questi denti, per esempio corone e ponti, oppure essendo già stati messi alcuni ponti, essendo stati persi alcuni denti, si è innescata anche già a inizio di piorrea, ovvero la gengiva che inizia a scendere perché si incastra cibo tra i denti e quindi quello fa innescare il problema dell'infiammazione ricorrente delle gengive. È un quadro generale più complesso e andare a lavorare su queste bocche ha un rischio maggiore, più stress per il paziente, significa mediamente tre volte anche più lungo come lavorazione, le ore che si passano sulla poltrona e i lavori che devono essere eseguiti. Ci vuole più tempo perché un conto è se io faccio un ferro di cavallo avvitato su sei viti, su sei impianti, in un unico tempo metto i denti dritti, tutti come devono essere, sono tutti perfetti, sembra che ha fatto l'apparecchio il paziente, ci va tutti dritti. Un conto invece se per ogni singola radice che è rimasta devo andare a salvare il dente, creare un margine preciso dove poi il cappuccio deve sigillare e deve essere un sigillo a 360 gradi attorno a tutto quel dente che poi dovrà essere cementato sopra quella radice naturale, più c'è di fianco un impianto, lì invece deve essere avvitata la corona, più ci deve passare il filo tra i denti, sono tutti i denti separati tra loro e quindi devono anche andare a toccare tra di loro con una certa pressione, non solo tra di loro i denti ma anche con quelli sopra e devo poi andare a vedere anche la dinamica occlusale andando a ritoccare tutti i singoli denti separatamente. Invece con il paziente che ha perduto tutti i denti la procedura è diversa, facciamo un test prima tutto di plastica, un ferro di cavallo di plastica chiamiamolo così, che viene auto generato dal computer secondo dei parametri che gli diamo, adattato poi un pochino dal designer e poi viene stampato da una stampante, questo viene avvitato su 4 o 6 viti, ci vuole 30 minuti, penso che qualcuno di voi l'avrà fatta la prova dei denti sugli impianti dentali, non è che ci vogliono 4 ore a fare quel lavoro o 2 ore, poi vai a fare gli aggiustamenti, i provi, se quello va bene, se no fai delle modifiche, scannerizzi e lo rimandi nel computer, invece i singoli denti, bisogna ogni singolo dente andare a provare, verificare il fit tra l'uno e l'altro, verificare l'occlusione ed alta la probabilità che i conti non tornano, ok, perché la bocca è storta e quindi ti ritrovi che avrai dei denti che sono più lunghi e degli altri che sono più corti, alcuni che sono più in qua, altri più in là e in più la gengiva vicino agli impianti è una gengiva che ha una forma diversa dalla gengiva vicino alle radici e quindi avrai anche che tra gli impianti e i denti naturali si incastra cibo, perché ci sono degli spazi naturali, perché proprio il profilo dell'impianto è diverso rispetto alla radice, se io taglio, questo è un dente per esempio, questa è la radice, io lo seziono qua, visto dall'alto, da qua, per esempio un premolare ha questa forma a pavesino, qua c'è poi il nervo, due nervetti, invece l'impianto dentale è così, è un cilindro, è un cilindro e quindi la gengiva qua sarà larga, qua a un certo punto la gengiva farà così. Visto di qua, questo diametro ci avrà poi qua un impianto dentale, qua faccio sì la corona che deve toccare sto dento, ma qui sotto si crea spazio, perché questa vite deve avere una certa distanza poi dalla gengiva, quindi avere una bocca che ha tanti tipi di lavori diversi, significa avere anche una bocca che è meno autodetergibile, l'autodetergibilità proprio, io parlo, la lingua, le guance, la saliva puliscono i miei denti, però quando inizia a avere protesi nella bocca diventa tutto più difficile, non si mantiene tutto pulito e quindi diventa anche difficile poi tenerli puliti quei lavori là, per questo serve andare a fare anche poi delle modifiche dei profili, andare a usare degli strumenti diversi per pulire che sono questi kit che vedete qui, avete già fatto la lezione di igiene con Inga, Yana, lei vi spiega poi come utilizzare tutti questi attrezzi, una alla volta vi fa l'igiene oppure fa delle sessioni qua della settimana dove spiega come vanno usati. Sono degli attrezzi, questi che magari alcuni di voi già li conoscono, come gli scovolini, che sono quelle spazzole che si passano tra un dente e l'altro e servono poi a pulire il cibo che rimane incastrato tra i denti. Se non vengono poi usati spesso, il cibo si incastra lì, rimane incastrato e poi inizia a far sanguinare la gengiva qua dove si incastra il cibo e allora poi inizia a scendere la gengiva e si scopre che, ne so, la parte metallica che unisce la corona all'impianto, che non è una cosa negativa, alla fine riesce a pulire anche meglio poi il colletto lì, anzi, però crea delle zone dove il cibo si incastra. Quindi ristrutturare, vi dicevo prima, se tu inizia a dover mantenere nella stanza tutti quei mobili sgangherati che si li restauri, però c'è il rischio che un'anta prima o poi si stacca, devi rinuovare, attaccarla, devi ogni tanto ridare lo stucco ed è anche più difficile andare a pulire perché hai comunque sempre un po' di caos per quella stanza, è un po' difficile mantenere tutto igienizzato. Capita che nel nostro settore ci siano due approcci di cura, ovvero tu vai dal medico e lui ti propone una terapia per tamponare, ok, fare lo stretto indispensabile, poi in sanità non c'è lo stretto indispensabile, oppure c'è il medico che ti dice, no, qua dobbiamo essere radicali, evitare che ci siano di nuovo problemi. Quando capita, per esempio, ne parlavamo proprio ieri, anche l'altro ieri, con i ragazzi, che ci mandano i pazienti delle richieste a distanza con delle lastre di casi misti e noi facciamo dei preventivi che comprendono assolutamente tutto e viene fuori anche un preventivo elevato, 8, 9, 10 mila euro diventa questo preventivo e dice, ma scusa, con 10 mila euro lo faccio in Italia, questo lavoro, o in Germania, per dire, non sto prendendo l'Italia come paragone. Perché se noi costiamo il 75% in meno rispetto all'Italia il preventivo viene uguale? Cioè ve la faccio io questa domanda. Però se tu prendi le singole voci di listino nostro, con il listino ufficiale rilevato dall'Andi, Italia quindi l'Associazione dei Dentisti, sono un quarto, un quinto in alcuni casi, anche un sesto i prezzi. Però come può essere il totale uguale o giù di lì insomma a quel preventivo che gli hanno fatto in Italia? Perché? Poi vediamo chi ha le colpe. Però è curioso vedere, la prima domanda che faccio è, mandaci il preventivo che ti ha fatto, o abbiamo dato noi di matto oppure c'è qualcosa che non torna. Magari il paziente doveva fare, che ne so, tre impianti dentali a Torino, non so quanto costino a Torino, gli impianti dentali, penso sui 1500 più o meno un impianto, con la corona, col dente. Sardegna, ok. Sardegna è 1800. 1800. La più bravo dente. Lì c'è il cartello, devi prendere la nave, l'aereo, ma senza Green Pass non vai. No, è quello che c'è dentro al preventivo che varia. Poi se vai a vedere il dettaglio ci sono cose diverse lì. Cioè se ci sono delle volte delle nazioni dove si cerca di fare lo stretto indispensabile per non far scappare il paziente, perché sennò viene fuori un preventivo da 30.000 euro, invece che da 8, da 10. E allora per evitare di far scappare il paziente non guardi la foresta ma guardi l'albero, non capendo che invece la bocca è un sistema che va tutto insieme. Quindi se io non ho la bocca dritta, c'è il rischio che poi i denti che metto non lavorano bene. Oppure li faccio di dimensioni scorrette, uno più corto, uno più stretto, oppure c'ho poi il mosaico, il pianoforte, uno bianco, uno scuro, uno giallino. E anche dal punto di vista poi dell'alito, dell'igiene, è un po' più difficile perché vado invece che a mettere un impianto, metto un ponte e lì sotto quello raccoglie cibo. Si comportano in maniera diversa poi questi lavori. E quindi non c'è un organo che verifica la completezza delle terapie in queste nazioni. neanche per legge è vietato curare a metà un paziente. Non c'è una legge che vieta al paziente, deve essere curato per intero, se no è malpractice. Perché tu puoi dire ma al paziente non si può permettere quello, allora gli ho messo la gamba di legno. Oppure gli ho messo la valvola ortica di legno. Sempre una valvola ortica, non è vietato utilizzarla, però che le performance sono diverse. Se a un paziente gli mancano i denti, gli rimette i denti, però se c'ha anche la piorrea neanche gliela diagnostico. Oppure se c'ha i denti storti, non gli dico che magari è meglio raddrizzarli prima di mettere i denti. O magari se c'ho un paziente che deve mettere degli impianti e c'ha un ponte sopra, che però non si gilla, perché un ponte è fatto 20 anni fa e le gengive si sono un po' ritirate, magari c'ha dei punti dove si è sciolto il cemento che c'era e quindi gli è entrata la saliva, a un certo punto mi focalizzo solo sui denti che deve mettere, ma io non mi tolgo la licenza se io non gli dico e non lo obbligo a sostituire quella protesi che sta da 20 anni in bocca. E quindi succede che quello che salta fuori è una lista di lavori da fare che è parziale, non va a fare l'elenco di tutti i problemi che ci sono all'interno della bocca. Invece noi facciamo quello che è il piano di cura integrale, dove ormai sempre di più se il paziente non fa tutto quello che c'è da fare neanche interveniamo, perché se no poi c'è il rischio che fa una fotografia, la manda neanche su Facebook, su Whatsapp, Whatsapp non sai neanche a chi la manda, magari la manda al gruppo degli italiani a Malta o gli italiani in Belgio, oppure tra i colleghi di lavoro, oppure su Facebook anche, e poi chi la vede dice ma chi ti ha fatti quei denti? Palmas, terrorista. Però non sai che quelli sotto non li ho fatti io, cioè è andato a Palmas, ha fatto i denti ma non gli ha detto quale dente, questo, quell'altro. In alcune nazioni ci si copra vicenda, che non va a dire quello lì, terrorista, quello. Vieni qua, ti faccio un altro preventivo e completiamo il lavoro. E rimani in questa spirale. Ci rimani per anni. Rimani vent'anni, trent'anni, stai sempre tappando una bocca e si apre l'altra e quindi continui sempre a fare i lavori. E quindi quello che accade è che una bocca magari che deve essere, che arriva all'attenzione del medico per un problema, il più delle volte c'ha altri problemi, perché i pazienti non essendo medici e soprattutto poi le malattie della bocca, non tutte danno dolore, sintomatologia. Danno alcuni segni che possono tranquillamente essere sottovalutati. Per esempio che lavi i denti e vedi un po' di sangue nel lavandino. Magari quella è una piorrea in stadio avanzato, terminale. Però la sottovalutavi, pensavi aver sbattuto con lo spazzolino sulla gengiva. Oppure ti mancano i denti o tutti i posteriori, come va con i denti? Tutto a posto, sorridi, si vedono quelli davanti. E lì c'hai anche una percezione, il lato paziente, di salute della bocca che è diversa da individuo a individuo. C'è quello che si scheggia un dentino, non esce di casa. E quindi c'hai anche da prendere in considerazione i fattori sociologici lì, che era considerato prima perdere i denti come normale, l'età, perdi i denti. Io avevo nonni tutti quei denti, sono morti, non erano senza i denti. C'è la genetica di base, ci sono i costumi, le cause sociologiche, la prevenzione che non è stata fatta e quindi manca anche l'attenzione a certi problemi. E poi quando vai dal dentista sai già che quello ti deve fregare. Perché ti deve fregare? Perché è lui che si prende i soldi. È lo stesso che ti dice quello che hai, il problema, che è il conflitto di interessi di cui da anni parliamo. No, che chi decide ciò di cui hai bisogno è quello che si prende poi i soldi. Non è normale questo. Cioè se io vado da un medico e con una mano mi tocca la tasca, dentro la tasca e mi dice nel frattempo che cosa ho, è strano, perdo fiducia, almeno penso, aspetta lo prendo con le pinze quello che mi dice o vado e sento un altro parere. C'è questa sfiducia in generale nella classe medica che deriva dal fatto non che i medici non sono bravi, ma il fatto che vengono pagati dalla direzione sbagliata, invece che da sopra, dallo Stato. Dovrebbe essere pagati dal malato. Quindi la malattia conviene. Oggi lo dicevamo con alcuni pazienti che l'emergenza conviene sempre perché ci fa i soldi con l'emergenza. Spazzatura in strada a go go. Non si risolve. Terapie intensive che mancano, mancheranno sempre. Sennò alla fine non vai a stanziare sempre fondi, fondi, fondi che poi scompaiono. E questo è un modo di ragionare sbagliato che porta poi chiaramente a quella incomprensione ma al prezzo uguale che farlo in Germania, farlo da voi. Noi lavoriamo come se non avessimo problemi economici. Cioè noi abbiamo l'obbligo, lavorando con le recensioni, con la distanza, quindi alla luce del sole con internet, che possiamo essere in qualsiasi momento, essere recensiti, o cambiata anche la recensione, abbiamo l'obbligo di non creare queste situazioni critiche, come alla fonte, andando a selezionare, mettendo nel preventivo tutto quello che va cambiato. Ok, dovrebbe essere cambiato. Poi, se un paziente non può eseguire questi trattamenti, perché per una mera questione economica, che ancora non può, qual è la soluzione giusta? Ripira. Bravo, punto. Aspetta un anno, due anni, metti da parte ma fai il trattamento completo. A meno che non ti trovi di fronte a uno stadio proprio di emergenza, dove hai ascessi, dove hai problemi gravi che mettono in pericolo lì proprio la vita del paziente. Se no, la cosa sempre corretta da fare è fare la terapia giusta, che va fatta, non la terapia a metà. Oppure fare le terapie in due tempi. Questo era il succo della discussione di oggi, che le terapie devono essere corrette nell'interesse del paziente di uscire poi da questa spirale, non di continuare a restare dentro. E ci sono i pazienti che sono ormai stati fregati alla grande, che sono quelli ormai in stadio terminale, il più delle volte, che ormai li hanno passate tutte. A un certo punto hanno addirittura rinunciato alle cure e sono andati verso l'accelerazione poi della patologia. Ci sono invece pazienti che rischiano di restare dentro perché entro, non so se vi è mai capitato di acquistare qualcosa che poi non l'hai acquistato perché devi acquistare anche quello. Poi acquisti quello ma devi anche acquistare questo. provi quella sensazione di essere rinchiuso dentro proprio una... si chiama un continuity program, quello dove devi continuare. Poi sei dentro ormai testa e piedi. Ok? Delle volte il commercialista o quello che ti fa la consulenza gratuita e serve solo per misurare la tasca, per pesarla, e poi vedere quanto ti può spolpare mese dopo mese o negli anni. Ok? Mi è capitato in diversi settori. Cioè facciamo tutto quello che c'è da fare. Mettimelo per iscritto. Poi se non sono ancora nelle condizioni di potermelo permettere di iniziare, aspettare. Allora prendere tempo. Però in alcune nazioni, ripeto, questo diventa un po' difficile perché c'è la tendenza a voler buttare dentro comunque il paziente. Cioè non si ha il coraggio di dire questo è tutto quello che va fatto. Invece delle volte il medico dovrebbe ricordarsi che prima di tutto l'interesse del paziente è quello di uscirne. Cioè se viene da noi è perché non vuole essere malato e non continuare a tenerlo in uno stato subclinico dove pare che sta bene, però tanto tra un mese, un anno deve tornare. E questo capita per esempio con i pazienti anche che devono fare tutta la bocca, dove magari vendono, vendono, propongono dei trattamenti di arcate complete su impianti che poi non sono delle arcate definitive, ma sono delle arcate provvisorie. Neanche la metti nel preventivo perché poi li ammetto fra due anni, quando quella si deteriora. Lo dovresti invece prevedere prima quello. Gli unici casi in cui non puoi mettere qualcosa in preventivo è quando non lo puoi prevedere, quello che ci andrà dopo. Da noi per esempio quelli sono i casi di chirurgia maxillofacciale, di impianti zigomatici, pazienti che è probabile che gli mettiamo i denti avvitati, è probabile che finiscono con la protesi, con la barra che si rimuove. Non possiamo sapere sinché non abbiamo tutti gli impianti integrati, sapere quello che si può fare lì. E allora lì ti possiamo dire solo, possiamo fare questo, 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 ma non sappiamo ancora quello che si può fare. E questo è quanto. Quindi se immaginiamo quel paziente, non in Sardegna, che deve mettere 5 denti e alla fine va a spendere 10.000 euro, viene da noi, mette gli impianti e ne spende, esagero, 600 euro a dente, per 5 sono 3.500, però poi in più sostituiamo un ponte, raddrizziamo l'apparecchio, con l'apparecchio 1.700 euro e siamo a 4.500 più 7, 5.200, più il ponte fai altri 150, sono 6 denti, metti che arriva 8.000, ok, mettendoci anche devitalizzazioni e altre cose, vede quello e quello, poi dici, ma è come se mi curo qua da me. Cambia quello che c'è dentro. Più ci metti il viaggio, l'alloggio, devi mangiare fuori, male qui, mangi bene. Poi vi do consigli dove andare a mangiare qua. Gli imprevisti ci possono essere, le cose non vanno mai quasi mai nella vita come t'aspetti, il paziente magari che deve tornare una terza volta, una quarta volta, e allora capisci che non puoi guardare solamente l'albero quando programmi una terapia, devi guardare anche gli imprevisti che ci possono essere qua, le infezioni come là, devi comunque pensare più 20% quando fai alla fine un preventivo. Io ormai ho imparato, faccio sempre il preventivo, più 20%, imprevisti, variabili e altre cose che ci possono essere. E alla fine quando tiri questa linea, converrà o non converrà, in quei casi, ci sono alcuni casi sotto una certa soglia che ormai ho calcolato essere sotto i 6-7 mila Euro, dove conviene fare o a quel punto se vai fuori di più di quello che dovresti fare, proprio risolvi tutto, anche l'aspetto estetico, tutto, così hai un vantaggio nell'aver fatto tutto il percorso. Invece fare le cose strette, necessarie, indispensabili, di quello che conviene a quel punto farlo in altre nazioni, o nella tua nazione dove vivi, o a Bergamo da dottor Palmas, anche in futuro. Grazie.